Musica Ciao ragazzi e ciao ragazze e benvenuti in questo nuovo video Prima di tutto vi volevo dire una cosa importantissima che mi avete chiesto in tante tante nello scorso vlog l'ultimo vlog che ho caricato qualche giorno fa che avevo, ah ma che sto dicendo, quale vlog l'ho messo, proprio rimecillita nel video che ho caricato, ahimai, quello del video le domande con mia sorella, appunto lunedì, ieri quindi avevo questa maglia, è in tantissime mi avete chiesto dove ho comprato questa maglia me l'avete chiesto in tante, è molto molto carina l'ho comprata da Stalivarius, io volevo dire questa cosa l'ho presa tipo, ma che sarà stata qualche settimana fa quindi dovreste ancora trovarla, è molto calda, è molto carina quindi ve lo volevo dire, cerco di rispondere alle vostre domande nei video su cosa indosso, le domande più frequenti così se vi vedete i video sapete tutte le risposte quindi iniziamo subito ragazzi il video speciale perché mi avete chiesto in tantissime una nuova recensione su prodotti economici con boninci nel video che vi feci che 3 di manifestare questa mia voglia di voler fare questi video ma non sapevo se vi potevano piacere che sono video che faccio proprio spontaneamente per darvi dei consigli buoni su prodotti buoni che vi fanno bene alla pelle e capelli sono io stessa ad andare nel suo mercato a comprare questi prodotti, quindi non sono video sponsorizzati sono sempre letta una persona come voi che va, li compra, li prova, si trova bene quindi ve li consiglio, quindi questo è quanto se vi piacciono questi video lasciatevi tanti like così capisco che vi piacciono e continuo a farmi altrimenti non ne faccio più però vi dispiace perché a me piacciono secondo me sono molto utili allora vi volevo consigliare questo video dei prodotti per la skin care routine che veramente mi stanno dando ottimi risultati mi sto trovando benissimo io ultimamente vi feci il video su cosa hai fatto al viso lo chiamai cosa hai fatto al viso punturine, interventi chirurgici se vi ricordate in quel video vi dissi che consigli su come avere una bella pelle quindi casomai andate a vedere quel video e tra in quel video vi accennai a questa cosa vi dissi che utilizzo prodotti con moninci anche se economici infatti questi qua li potete comprare sul mercato però hanno moninci quindi non metto siliconi, paraffini, ingredienti dannosi sul viso ed è una cosa importantissima che già vi assicura di avere una buona pelle senza impurità senza rughe senza punti neri brufoli eccetera allora io questi qua veramente ve li straconsiglio li ho comprati al suo mercato e li ho trovati per caso cioè mi ha girato perché io sono molto curiosa e vado leggendo vado vedendo dell'equilibra che come sapete è una marca di cui non sempre ho parlato bene perché sai che sono molto spontanea non me le può fregare meno e spesso ho trovato dei prodotti che avevano siliconi ingredienti comunque non naturali molto sintetici e invece mi ho proprio scettito mi ho detto fammi vedere questa nuova linea di equilibrio allargando proprio così con l'occhio sapete furbetto sono andata a leggere ho detto ma cavolo ma fai l'equilibrio finalmente ha messo la testa a posto no perché ragazzi davvero hanno un buon inci quasi quasi completamente naturale veramente infatti c'è scritto che senza parabeni senza siliconi senza oli minerali senza faraffina ma controllando lì c'è veramente c'è pochissimo di sintetico quasi completamente naturale è ricco ricco di ingredienti pregiati di vitamine olio di argan burro di carite sodio di alluronato comunque ragazzi veramente buono e non costano tanto io quindi mi sono fatta prendere l'olio fuori ho comprato sia la crema viso all'argan e non l'avevo vista pubblicizzata da nessuna parte né in tv né su internet da nessuna parte so che sia nuova perché l'ho comprata io da qualche settimana che la sto provando mi sto trovando benissimo so che intanto mi chiedete delle creme antirughe con buon inci economiche ragazzi questa è buona ve la posso straconsigliare comprata sul mercato pagata non mi ricordo quanto ma non tanto insomma che sarà stato un 6 euro ma non mi ricordo comunque non tanto è proprio buona come crema è fatta bene anche il pack è tutto bello rigido carino e questa appunto è una crema antirughe ma c'era anche una crema idratante normale quindi per chi è più giovane vuole un idratante normale è molto densa bella si assorbe non fa la scia bianca veramente e anche il profumo tutta la linea ha dei profumi ottimi di argam di odora tipo di mandorla di noce comunque ragazze questo è il bello di vedere un video come il mio che io non ho nessun interesse perché io sono andata all'ale ho comprati eccetera perché se vi dico questa è buona ragazzi 100% è buona cioè voi se la comprate vi trovate bene perché veramente è un consiglio proprio spassionato e sincero e sapete che ci tengo tantissimo agli ingredienti quindi veramente veramente buona toppa poi c'è il contorno occhi mi sono fatta prendere lo fai io ho detto li compro tutti perché avevano un inci ottimo in questa nota ecco forse questo costava 7-8 euro però il contorno occhi anti-age di origine naturale giovinezza naturale anche qua c'è l'olio di mandorle l'olio di algan l'acido di aluronico ci sono tanti estratti carini delle vitamine comunque anche questo qua è buono tutta la scatola si butta però c'è un piccolino è carino così molto molto carino di facile assorbimento sono entrambi i nutrienti però non lasciano sciatare quindi li potete utilizzare ad esempio anche la mattina prima di toccarvi poi sono presa anche l'acqua micellare che insomma tra tutti i prodotti che c'erano è la cosa più semplice che alla fine è un po' d'acqua con un po' di detergenti insomma nulla di che però è buona il video di la verità è buona e anche questa qua come inch è fatto bene insomma quasi completamente naturale ed è appunto un'acqua micellare quindi che vi potete struccare sia il viso che gli occhi è molto carina poi piace il pack trasparente e mi piace però se avete se utilizzate tipo fondotinta liquido trucchi molto occlusivi potrebbe non bastare ci vuole magari un po' di grasso tipo un bifasico latte detergente oppure potete mettere magari sul dischetto un po' di acqua struccante qualche goccita di olio di argano di jojoba quel che vuol di oliva e così si toglie perché se no solo l'acqua non basta a struccarvi comunque ha un profumo questa qua ha un profumo ottimo di mandola di noce è troppo carino comunque mi hanno piacevolmente colpito ho comprato questo qua non c'è del tonico non mi ricordo se non c'era o non aveva bollice comunque non l'ho comprato e se c'era ma non mi pare che non c'era ho preso questo qua dei provenzali che già avevo provato in passato ed è molto buono come tonici al supermercato è uno dei miei preferiti anche questo qua l'ho pagato poco e ha la rosa moscheta quindi anche un po' antilughe perché comunque c'è la rosa ma restratti e il tonico sapete che serve sempre quindi come skin care alla fine utilizzate sempre dopo esservi struccate utilizzate il tonico quindi che vi chiude i pori e vi assicura una pelle pura prima di mettervi la crema e dopo il tonico non bisogna sciacquare il viso ho comprato questo qua che è un detergente delicato come sapete io vi consiglio sempre di utilizzare un detergente anche cioè voi struccate il viso e dopo utilizzate un detergente fate schiuma vi lavate il viso così vi assicurate che il viso è purito e poi dopo mettete il tonico quindi la skin care va fatta così mi strucco mi lavo con un detergente sciacquo bene mi metto il tonico non mi sciacquo dopo il tonico specificato perché alcune se lo chiedono mi metto la crema idratante e la crema con tornocchi questo ve lo straconsiglio è dell'antillis detergente delicato anche questo l'ho occupato sul mercato io lo utilizzo sia per le mani che per il viso è ottimo per diciamo dopo essersi struccati perché è molto delicato va bene anche se avete la pelle secca non tira la pelle molto carino una buona profumazione questo è completamente naturale e bio visto che ci sono vi volevo dare anche due tre consigli su altre creme dal suo mercato molto economiche antilughe ratanti che per farvi capire che non dovete per forza spendere un occhio della testa per trovare una buona crema quello che vi dicevo nell'altro video quindi oltre a quella là ad esempio potete comprare questa dell'antica erboristeria di forza si trova sul mercato questa è una crema di generale magadamia e argan con questa anche mi sono trovata benissimo molto nutriente la consiglio soprattutto per le pelli secche o mature perché è veramente veramente nutriente e distende tutta la pelle quindi buon inci ottima questa qua che la potete comprare al discount nel frattempo faccio volare le cose della botanica crema viso lifting inci molto accettabile molto idratante buona c'è anche col tappo azzurra va bene anche quella quindi discount e questa infine questa qua ve l'ho mostrata nel video precedente sui notti al suo mercato l'ultimo video che risale a qualche mese fa se non l'avete visto vi lascio la scheda cliccabile così lo andate a vedere già vi ho detto tutto in quel video ragazze costa tipo 2-3 euro quindi pochissimo ha un pack di vetro condorato carinissimo e ha un buon inci anche se non c'è scritto nulla si chiama c'è scritto D-Care Beauty crema viso lifting comprata sul mercato per pelli mature segnate dal tempo anche se non c'è scritto naturale inci senza questo senza quello inci è buono quindi questo è tutto ragazzi come avete visto per avere una skin care buona naturale potete avere una bella pelle non c'è bisogno di spendere tantissimi soldi potete comprare i vostri prodotti anche al suo mercato e spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando se vi è piaciuto mettetevi tanti like ci vediamo domani con un nuovo video ciao ciao Grazie a tutti.